Ciao a tutti amici di CDK, qui la vostra Haskell che vi parla e vi da il benvenuto nel video del 2 settembre dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming oppure sul mio social Instagram per i miei aggiornamenti i link sono tutti quanti scritti in descrizione e nel mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Primissimo gioco gratis che presentiamo per chi ha l'abbonamento all'Xbox e Warhammer Chaosbane che è assolutamente un giocone che dovete avere se vi piace in genere il mondo di Warhammer o comunque vi piacciono i giochi RPG fantasy quindi consigliato di riscattarlo e di giocarlo e nel caso fatemi sapere se vi è piaciuto. Invece su Epic Games questa settimana stanno dando gratis tanti giochi tra cui Yokus Island Express che era un gioco che io non conoscevo ma sembra essere un gioco diciamo puzzle game d'esplorazione anche molto particolare e divertente quindi assolutamente consigliato di giocarlo e di provarlo anche perché è completamente gratis. E invece per chi ha l'abbonamento ad Amazon Prime e quindi anche Twitch Prime stanno dando tantissimi altri giochi questo mese tra cui Sam & Max Eat the Road che è un gioco mi era familiare, l'avevo già visto in passato ed è anche qui un gioco molto di esplorazione ma anche abbastanza irriverente quindi consigliato di riscattarlo e arriverà per sempre nella vostra libreria. E invece su Humble Choice andando gratis We Need To Go Deeper anche qui è un gioco diciamo platform ma anche di esplorazione che adoro perché ha uno stile grafico molto diciamo cartunesco ed è davvero bellissimo mi interessa tantissimo quindi siete curiosi anche voi di provarlo mi raccomando riscattatelo e giocatelo. Invece per i giochi in uscita oggi finalmente uscirà WRC 10 il nuovo gioco anche molto realistico la tema con serie di macchine poi la serie di WRC è davvero una bomba e manita tantissimo quindi consigliato di comprarlo oggi perché già adesso sul nostro sito è scontato del 35% quindi non perdetelo. Invece sempre oggi uscirà anche Pathfinder Wrath of the Ritus se vi piacciono i giochi RPG e molto di gioco di ruolo assolutamente consigliato di giocare questo nuovo capitolo di Pathfinder anche perché è scontato anche qui sul nostro sito del 23% quindi non perdete questa grande occasione e compratelo dal nostro sito. Invece il 10 settembre uscirà NBA 2022 il nuovo capitolo della serie di giochi a tema pallacanestro quindi se vi piacciono i giochi sportivi o anche abbastanza realistici assolutamente consigliato di giocare questo di comprare questo quel giorno perché già adesso è super scontato quindi non perdetelo poi il 10 settembre. Invece sempre il 10 settembre uscirà un gioco che molto probabilmente porterò sul Twitch insieme a voi e non vedevo l'ora di portarlo ed è Lost in Random che è un gioco davvero strabello sembra molto di gioco di ruolo insomma ed è davvero molto bellino anche graficamente quindi se interessa anche voi mi raccomando compratelo da CDK. Invece per i giochi super scontati abbiamo a soli 18 euro scontato del 63% abbiamo Nero Automata che forse non ha bisogno di spiegazioni perché sono sicura che lo conoscete già ma se non l'avete mai giocato questa è la vostra occasione perché a 18 euro è veramente super scontato un prezzo veramente tracciato quindi non perdetelo mi raccomando. Invece altro giocone che costa solo 8 euro scontatissimo del 73% abbiamo Metro Exodus anche qui un giocone di esplorazione FPS in prima persona dove dobbiamo cercare di sopravvivere in mezzo a mostre zombie quindi assolutamente consigliato di comprare anche perché a 8 euro è veramente un prezzo regalatissimo quindi non perdetelo. Invece altro gioco che costa poco meno di 8 euro io ho adorato tantissimo è Vampire che è super scontato dell'81% e lo potete trovare sia su PC che su console quindi consigliatissimo anche qui perché è molto sempre fantasy RPG in un certo senso è davvero strabello quindi consigliato. Ultimo ma non importante da solo 4 euro abbiamo Elite Dangerous che scontato del 84% è veramente regalato se vi piacciono i giochi di combattimento nello spazio quindi davvero consigliato di comprare e giocarlo. Noi invece con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione di oggi io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo nella prossima presentazione di giochi oppure vi aspetto sul mio canale Twitch alla prossima ciao ciao